Questa volta il pallottoliere, che alcune volte ha utilizzato il sindaco Scionti per capire se aveva ancora la maggioranza in consiglio, sarebbe stato utile agli innamorati di Roi Biasi. La mozione di sfiducia contro il presidente del consiglio comunale Fausto Siclari, infatti, è tutta da rifare, rigettata. Era stata presentata dal gruppo degli innamorati perché, secondo i cinque consiglieri di minoranza, Siclari aveva ripetutamente rinunciato al suo ruolo di imparzialità, motivo della bocciatura o meglio l'impossibilità procedurale, come recita la lettera della presidenza del consiglio comunale, un mero calcolo aritmetico sbagliato, almeno da quanto emerge dalla missiva indirizzata ai consiglieri firmatari della mozione. La lettera, a firma del vicepresidente Rosal Bascone, ricorda che il sindaco, in base al comma 7 dell'articolo 23 dello statuto comunale, è, a tutti gli effetti, un componente del consiglio. Ed è stato proprio qui l'errore da parte degli innamorati di Biasi, il non aver considerato il primo cittadino parte integrante dell'assemblea. Il documento recita che nessuna norma prevede l'esclusione del sindaco dal computo numerico dei consiglieri assegnati al comune e che, pertanto, il calcolo di un terzo dei consiglieri previsto da regolamento per presentare la mozione deve essere eseguito considerando il consiglio comunale di Taurianova composto da 17 componenti. Il numero minimo per la presentazione della mozione risulta essere quindi di 5,66, ossia 17 diviso 3. Visto che le risultanze del calcolo, si legge ancora nel documento, assommano ad una cifra decimale 5,66, la stessa va arrotondata per eccesso a 6 come da statuto. La mozione di sfiducia è stata perciò rigettata, in quanto è stata firmata solo da 5 consiglieri e non da minimo 6. Grazie a tutti.